Lampioni spenti da circa tre settimane in un tratto di via Luciano-Laurenzi e via Luigi-Adriano-Milani ad Ossia Antica. I residenti del quartiere denunciano la mancanza di sicurezza. A causa del buio, infatti, nelle ore notturne è diventato pericoloso passeggiare o lasciare le proprie auto in sosta. Per questo chiedono tempestivi interventi per il ripristino dell'illuminazione pubblica. È segnalato, sarà 10 segnalazioni, se basta. Prima ha detto dopo due settimane venivano a ripristinarla. Qui sono passate quasi tre settimane, ma non si vede nessuno. Perciò non lo so se è giusto una cosa del genere, oppure noi siamo cittadini come gli altri, naturalmente. Anche perché qui alle spalle c'è un parcheggio, ci sono diverse abitazioni, quindi comunque è pericoloso avere queste strade al buio. Certo, è pericoloso perché fino a questo punto è illuminata, ritornando indietro, e qua è buio. Quando uno gira, c'è un incrocio, non vede quell'altro magari perché è al buio, è pericoloso. Noi chiediamo anche all'amministrazione perché dato che alle reti abbiamo segnalato più di una volta, dice sì, provvediamo, provvediamo, ma qui non si provvede mai. Io non lo so se è una cosa giusta, che dobbiamo fare. Insomma, se noi pagamo l'Atari, chi è responsabile di tutte queste cose? Naturalmente noi al buio non vogliamo starci più. Se qui non si paga provvedimenti e vengono a rovinare le macchine, faremo denunce. Perché non è giusto che una macchina viene parcheggiata, di notte magari qualche individuo viene a rovinarla e naturalmente chi la paga? C'è un po' di menefreghismo da parte di chi è competente dell'argomento, insomma. Vorremmo un pochettino più di attenzione, devi sempre continuare a telefonare. Questo è quello che succede a noi quando c'è un problema. C'è un pochettino più di attenzione.